Il nuovo Basket Aquilano saluta il 2022 da primo in classifica nel campionato di Serie C Gold. Il torneo, prima della pausa natalizia, era arrivato alla terza giornata del girone di ritorno per un complessivo di 12 partite disputate da ciascuna delle 10 squadre partecipanti. Ebbene, il nuovo Basket Aquilano ha chiuso l'anno con un invidiabile record di 11 partite vinte e una sola sconfitta per un totale di 22 punti in classifica. Due lunghezze di vantaggio sull'amatori Pescara, tra l'altro l'unica squadra che è riuscita a fermare il cammino degli uomini di coach Zubiran. Era il 6 novembre scorso, quando al pala elettra l'amatori Pescara si impose per 75 a 59, soprattutto grazie a un terzo quarto superbo che spezzò l'equilibrio della contesa. Da quel KO però il nuovo Basket Aquilano ha saputo trarre insegnamenti e forza, inanellando una striscia ancora aperta di 7 successi consecutivi. Un nuovo Basket Aquilano che ad oggi può vantare il miglior attacco del campionato con 926 punti fatti. A livello difensivo invece è quinto nella graduatoria dei punti subiti con 829. Nel 2023 il percorso del nuovo Basket Aquilano riprenderà da Termoli. La partita con l'AIR sarà in programma domenica 8 gennaio al Palasabetta, con palla a due prevista alle ore 18. All'andata il nuovo Basket Aquilano si impose sui molisani per 77 a 60.